Rammarico per certi versi ancora più preoccupazioni per i concetti espressi dal governo regionale in merito alla situazione dello stabilimento Eni di Gela e quanto sostengono Cigella e Cisle Will dopo l'incontro avuto ieri con il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Il presidente, dicono i sindacalisti, ha affermato che comprende le ragioni dei presidi e nel frattempo dichiara che dipende tutto dal governo nazionale e nel merito dal Ministero del Lavoro. Incredibile, ma vero, tutto questo accade mentre l'attenzione a Gela non ha precedenti e nella giornata del comunicato congiunto con i sindaci e gli operatori economici. Abbiamo perso sei ore per ascoltare dal governo regionale che non ha nessun potere per intervenire per l'attuazione del protocollo e c'è un rimbalzo di competenze e responsabilità politiche sul governo nazionale. Noi non ci aspettavamo il miracolo sicuramente dal governo regionale, ma sicuramente non ci aspettavamo l'abbandono di una responsabilità che invece è certa e vi è una volontà politica di lasciare le mani libere all'Eni e questo mortifica i lavoratori che sono in strada e i cittadini di Gela che stanno con la speranza di vivere in una città diversa e migliore. I sindacati annunciano che la protesta continua ed in modo chiaro rivendichiamo il diritto di avere una data dal governo Renzi per affrontare e definire il presente di un'intera popolazione e con essa da oggi le popolazioni dei comuni limitrofi. Intanto oggi a Gela è giunto il segretario nazionale dei chimici della CGL Emilio Miceri. Crediamo che il governo nazionale e il governo regionale debbano su questo punto provare ad agganciare non soltanto la possibilità di far andare avanti il protocollo e di fare gli investimenti di cui Gela ha bisogno ma innanzitutto di dare una risposta alla tensione sociale che c'è. Gela è una di quelle città che sta vivendo una fase di impoverimento impressionante e non si può stare lì a guardare e immaginare che la vita scorra un po' come prima. Bisogna che ci sia un intervento da subito dal governo, c'è bisogno che l'ENI capisca che gli investimenti che aveva promesso deve farli perché se l'ENI non farà gli investimenti condannerà questa città alla morte certa. La politica si assuma le responsabilità dando al territorio risposte concrete attraverso strumenti straordinari e derogatori ad ogni legge ribadiscono le sigle sindacali. La politica sappia che ogni giorno è un danno in più al mondo del lavoro e ad un'intera popolazione. L'ENI anticipi i cantieri così da dare occupazione a centinaia di lavoratori. Riteniamo che l'ENI deve accelerare in tempi brevi gli investimenti e che il governo nazionale prenda in mano questa situazione affinché ci dia quel contributo per fare un bolo green che permette nel proseguo di questa partita ci permette di poter avere un respiro occupazionale e un'industrializzazione che sta avvenendo a meno in questo momento.